Il nuovo ciclo di X-Factor non è nemmeno decollato, e già ci sono scintille tra i giudici, l'inimitabile Morgan e il cantante Pop Fidels. Sorpresa! Dopo un'assenza di 9 anni, Morgan si unisce al cast. Ma aspetta, c'è di più! Il primo schiaffo verbale è stato dato da Fedez durante la presentazione di Love Me 2023, un concetto di beneficenza che sta per tornare con la sua seconda edizione. Mi auguro solo che sia professionale e che sia puntuale. No, non è ovvio, perché in passato non lo è mai stato, ha detto Fedez, riferendosi a Morgan. Oh mio Dio! Rispondendo alla frecciatina di Fedez, Morgan ha pubblicato un messaggio incendiario sul suo profilo Instagram. E ora vediamo cosa ha risposto. Rompendo il silenzio, Morgan ha replicato sul suo profilo Instagram. Caro Fedez, se non vedi l'ora di sfidarmi, fallo sul piano delle competenze musicali, non su quello della disciplina, che non ha nulla a che fare con l'arte. Forse così il livello si alza un po', che ne pensi? Ma aspetta, ci sono altre novità! Morgan non si è fermato lì. Nei commenti del suo post, ha aggiunto, Penso che alla domanda, cosa è un do maggiore, si trasformerebbe nel ciuchino di Shrek. Rido male. Quindi, cosa succederà adesso? Fedez risponderà alla provocazione? Restate sintonizzati, perché si prevede una tempesta.